Siamo in questo avvento così particolare, duro, difficile, che non sembra neanche avvento. E però questo è forse proprio l'avvento in cui più che mai abbiamo bisogno della parola del Signore, dell'annuncio di Cristo. Che dia speranza a chi è senza speranza, che dia luce a chi si sente nel buio. Ed è così, timorosi e riconoscenti che ci mettiamo alla presenza del Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva, in Gesù Cristo. Così parla il Signore nel profeta Zaccaria. La mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Manda grida di gioia. Rallegrati, o figlia di Sion, poiché ecco io sto per venire. E abiterò in mezzo a te, dice il Signore. Preghiamo. Signore Dio, Padre Celeste, che hai mandato il Tuo Figlio in questo mondo affinché prenda possesso di ciò che è suo, prepara noi oggi a riceverlo, sì che il nostro cuore non sia più attaccato al mondo, ma venga consolato e rallegrato, rimanendo nel mondo nella giusta maniera, così da portare consolazione e gioia a tutti quelli che incontriamo. La consolazione e la gioia della vicinanza del Tuo Figlio Gesù, che con Te e con lo Spirito Santo vive e regna in eterno. Amen. Signore, a Tua parola, che ogni anima e regenza mi illumina e consola e prende vita in me. E quando il dubbio amato il cuore mio dorme entra Tua parola, Tua parola, che ogni anima e regalo che colpo dunque a te. che ogni anima e regalo che ogni anima e regalo che ogni anima e regalo avvora 11.5. E quando i occhi a te. che ogni anima e regalo che ogni anima e regalo e regalo Ascoltiamo un testo classico dell'avvento. Possiamo dire il testo del Vangelo di Luca laddove tutto inizia. Leggiamo al capitolo 1 di Luca i versetti da 5 a 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abbia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed erano tutte e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore in piedi, alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. convertirà molti dei figli di Israele al Signore e loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri e i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo duggiare nel Tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio ed egli faceva loro dei gesti e restava muto. Quando furono compiuti i tempi del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi dicendo, ecco quanto ha fatto per me il Signore, nel giorno in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna di mezzo agli uomini. Grazie. I grandi cambiamenti, le rivoluzioni riescono laddove sanno colpire al cuore il vecchio, quello che va capovolto e superato. Ecco allora che la rivoluzione che è Gesù, la più sconvolgente grande della storia, proprio perché non viene dalla storia ma da Dio stesso, attacca il vecchio sistema che in Israele regola da secoli il giusto modo di rapportarsi a Dio, puntando dall'inizio laddove quel sistema il cuore palpitante. Come abbiamo ascoltato siamo nel Tempio, nel luogo santo della città santa, in mezzo al popolo santo raccolto in preghiera tra i fumi profumati dell'incenso, ed è lì che è inizio la rivoluzione. Lì Dio stesso colpisce, e subito noi comprendiamo la portata di questo suo intervento. Qui siamo in fondo di fronte a una stranezza. Zaccaria è nel Tempio di Gerusalemme, cioè nel luogo per eccellenza della presenza di Dio, e allora non dovrebbe avere paura se Dio si manifesta proprio lì. Invece quando neanche Dio, ma un suo angelo, un suo messaggero, gli appare in piedi alla destra dell'altare, quell'uomo pio e venerabile, quell'ormai anziano sacerdote giusto e osservante, la cui intera vita è trascorsa nella tensione a cercare il contatto col Signore, ora che finalmente questo contatto c'è e l'incontro avviene, e avviene nel luogo a questo deputato più che ogni altro luogo al mondo, fu turbato e preso da spavento. Se ci pensiamo è il segno che davvero i tempi erano maturi per il cambiamento, perché se Dio che si rende presente nella sua stessa santissima dimora fa paura, allora la dimora, allora il Tempio non funziona più. E se la paura viene ad attanagliare il cuore di chi è per definizione consacrato a Dio e vive la sua consacrazione in modo irreprensibile, allora neanche il sacerdotio riesce più ad essere quel che dovrebbe essere. Forse tutto è diventato ritualismo, orari, turni, consuetudini, successione ordinata di servizi, tutto è oramai davvero solo fumo profumato che sale verso l'alto e subito svanisce, gesti e segni di una presenza che va bene a livello simbolico e di rito, ma se poi si fa concreta e vera, se l'angelo si mostra e c'è paura, allora è proprio il tempo di cambiare, perché qui qualcosa e forse tutto non funziona più. E Dio, sempre infinitamente meno conservatore di noi esseri umani, cambia, perché non vuole avere con noi un rapporto fatto di orari, invocazioni e turni, vuole una comunione di vita, una comunione d'amore. E allora qui inaugura un rapporto nuovo, nel quale Zaccaria è subito coinvolto fino in fondo. L'angelo del Signore non gli parla infatti come al sacerdote di Israele per caso incaricato in quel momento di svolgere il servizio. No, parla direttamente all'uomo Zaccaria. Va al di là del suo ruolo, al suo cuore e al suo cruccio, alla malinconia di un'assenza che rende ancora più vecchio questo vecchio. Non temere, dice l'angelo, Zaccaria, perché la tua presenza è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti pattorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni, che significa grazia di Dio. Il grande cambiamento che qui a inizio sta proprio innanzitutto in questa personalizzazione del discorso dell'angelo. Non avere paura, Zaccaria, perché Dio non si è fermato al profumo che gli offri, nemmeno al tuo incarico. Ha guardato al tuo cuore, alla tua silenziosa sofferenza e alla preghiera che gli rivolgi fuori, ma che non osi rivolgergli nel Tempio, perché ti sembra una preghiera troppo tua, troppo privata e perciò indegna della maestà di questo luogo. E ti darà a Dio quel figlio che gli hai chiesto, per te e per tua moglie Elisabetta. Questo è il nuovo che irrompe nel cortile del Tempio. Dio parla a un essere umano per quello che è, con i suoi desideri, con i suoi cruci, con le sue paure, con le sue angosce, ma anche con la sua voglia di vivere e la sottile nostalgia di qualcosa o qualcuno che gli manca perché non c'è ancora oppure non c'è più. Ma proprio perché si dirige al cuore dell'essere umano, Dio non va al cuore di un solo uomo, ma al cuore di tutti. La sua grazia evocata nel nome del bambino che qui viene promesso è certo innanzitutto per Zaccheria e sua moglie, ma poi la gioia che la grazia di Dio donerà a loro diventerà gioia di molti. Tu ne avrai gioia ed esultanza, dice l'angelo, e poi aggiunge molti si allegreranno per la sua nascita. Ma non è facile, soprattutto per chi da sempre vive, vive rettamente in una religione antica e veneranda aprirsi al nuovo. E così, nonostante l'angelo lo inviti a non temere, Zaccheria a questo punto ha ancora più paura. Superato il timore dell'inizio, poteva forse accettare un messaggio di Dio per tutta la moltitudine del popolo che stava fuori in preghiera e che lui rappresentava lì nel tempio. Il fatto invece che l'angelo venga incontro alle sue richieste personali e private. E anche il fatto che gli faccia balenare nell'orecchio un mondo così nuovo e diverso che in esso non saranno più i figli, come è sempre stato, a volgere i loro cuori verso i padri per imparare da loro a vivere e a pregare. Ma al contrario, come dice l'angelo, saranno i cuori dei padri che dovranno volgersi d'ora in poi verso quello dei figli, tutto questo disorienta completamente Zaccheria. E Zaccheria esprime la sua crisi, chiede un segno. Da cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Non basta a quest'uomo sconvolto, l'angelo del Signore, maestrosamente ritto lì nel tempio. La novità che rompe è troppo grande. È troppo grande il suo coinvolgimento personale. Quel figlio che gli viene donato e al tempo stesso già subito ripreso e assorbito nella sfera di Dio. L'angelo dice anche che sarà grande davanti al Signore, non verrà né vino né bevande inebrianti e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. E così Zaccheria chiede un segno. E l'angelo gli dà il segno che gli chiede. Ecco, tu starai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Dubiti che Dio possa operare quello che ti ho annunciato? Ebbene, ti mostro subito. Nella tua stessa persona la potenza divina resterai muto fino al compimento delle mie parole. Ma forse il mutismo di Zaccaria ha anche un altro significato. Zaccaria adesso sa quello che Dio vuole fare, ma non potrà parlarne finché Dio stesso non l'abbia realizzato. Quando il figlio promesso, il suo bambino, sarà venuto al mondo, allora l'azione stessa di Dio di suscitare vita dalla sterilità e dalla vecchiaia annuncerà a Israele in attesa la novità che rompe. Per adesso bisogna aspettare. E adesso Zaccaria questo lo comprende. Così, quando furono compiuti i giorni del suo servizio, se ne torna tranquillamente a casa sua. E nella stessa luce va visto anche l'atteggiamento di Elisabetta, dopo che ha concepito quel figlio ormai non più sperato. Se ne sta nascosta e quindi anche lei, silenziosa, per cinque mesi attende in una gioia stupita e riconoscente. Ecco quanto ha fatto per me il Signore nel giorno in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna di mezzo agli uomini. Il Signore in quest'avvento così particolare, con così poca gioia, ci dia almeno, sorelle e fratelli, un briciolo di questa gioia stupita, stupita, riconoscente, silenziosa. Amen. Il Signore in quest'avvento e il Signore in quest'avvento è stato un luogo di Grazie a tutti. 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 Noi ti ringraziamo perché tu non lasci nessuno privo del tuo amore e ti prendi cura, silenziosamente a volte, ma realmente di tutte le tue creature. E intercediamo presso di te per i più poveri dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che sono oggi le persone malate, le persone ricoverate in ospedale che non possono più vedere i loro cari, le persone che hanno perso il lavoro, le persone che in questo periodo in cui tutti sono talmente presi dalle loro angosce, da non riuscire quasi più a pensare agli altri, e anche a pensare che questo capita spesso, non sono più raggiunti dalla consolazione di uno sguardo, di un'attenzione, di un sorriso, di un aiuto. Ti preghiamo perché la luce dell'avvento ci aiuti a tornare a guardarci in faccia, anche dietro alle mascherine. Ci aiuti a guardarci negli occhi con più intensità e più partecipazione. Ti preghiamo perché in questo tempo la Chiesa sappia far risuonare la parola di speranza e di consolazione del tuo Vangelo. E venga il tuo spirito a rinnovare i nostri cuori e ad aprirci alla tua novità. A quella rivoluzione che è iniziata tanti secoli fa nel Tempio di Gerusalemme con l'apparizione dell'Angelo e che ancora continua, va avanti. Noi a volte non ce ne accorgiamo, ma siamo in questo cambiamento. In Gesù è grazie a Lui, Lui nel quale ti possiamo, ti dobbiamo, ti vogliamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre la tentazione, ma liberaci dal maligno. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Ci lasciamo, invocando la benedizione del Signore. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Amen. Grazie a tutti.